ciao amici stiamo andando al pronto soccorso abbiamo appurato che la yoga challenge è una challenge che assolutamente non dovete fare a casa se non sapete un cazzo di yoga non fatelo è pericolosissima e speriamo che il piede di katia non si sia rotto perché sennò io mi toccherà ad andare a divinire questo pazzo vabbè comunque lo vedrete nella yoga challenge che c'è bubi che mi cade addosso perché lui e le sue prove lui è più leggero di me vero come no non voglio farmi pizza col cesso perché prima non stavamo registrando ma si è messa a piangere di brutto con un attacco di panico sì perché ho visto sto bozzo che cominciava a crescere e ha iniziato a dirmi tu di pizza andrai con le puttane e mi sono immaginata io su una sedia nel villaggio col cesso quando lui mi è caduto sopra abbiamo sentito questo crack pazzesco e ti giuro in quel momento io ho avuto ho detto adesso guardo il mio piede se è storto vomito e poi svengo che cos'è quello non si sa non si sa non si dai siamo quasi arrivati siamo quasi arrivati ora è la caviglia grassa perché prima era magra adesso ho bisogno di te dai che ci siamo quasi come tag non l'avevo mai messo pronto soccorso siamo in attesa Katia è appena entrata le hanno fatto una lastra e stiamo aspettando gli esami sono ancora viva sono ancora al pronto soccorso come noterete adesso Luca mi sta venendo a prendere e il referto è praticamente non ho rotto nulla quindi state tranquilli per fortuna non ho rotto nulla non andrò ai pizza con il gesso anche perché sarei andata anche a ballare col gesso quindi niente dovrò prendere alcune medicine stampelle e assoluto riposo per una settimana Luca sarà la schiavetto bellissima cosa bellissima cosa quindi niente vi mando un bacione grazie a tutti per il vostro sostegno e tutti i vostri messaggi calorosissimi meravigliosi vi voglio un sacco bene Katia non si è fatta niente ha preso solamente una botta ora parcheggio la macchina se volete vedere la yoga challenge la challenge super pericolosa che abbiamo fatto non dovete fare altro che cliccare qua yoga challenge clicca hai cliccato guarda come si è fatta male Katia cliccando qua sta andando a sbattere ciao raga vi voglio bene ciao amici benvenuti alla yoga challenge Ubi cazzo no ubi minchia che pane